In casa Gesualdo si cerca un bomber importante. Con l'addio di Fruggiero, l'ex San Martino ha lasciato la squadra di Pugliese e la dirigenza è a caccia di un giocatore che possa far fare il salto di qualità. Nel mirino della società ha diversi profili, tra cui quelli di Verrilli e Grillo delle Clanese, formazione militante in eccellenza. L'ex Serine Vissariano non è riuscito a trovare ancora la via della rete in questa stagione, mentre la punta con un passato all'Accadia ha stilato un solo gol. Ma non sono gli unici nomi sul tacquino dei Gesualdini. Infatti, secondo indiscrezioni, c'è anche un nome forte, quello del Sannita, Silvio D'Andrea, attaccante della Virtus Savellino. Il centravanti, autore di tre gol fino a questo momento, è un profilo di altissimo livello, un elemento in grado di fare la differenza nella gadetteria regionale, non è escluso però che possano venire fuori altri nomi importanti. Intanto, sembra essere vicinissimo l'arrivo di Mattia Gambino, jolly della Virtus Savellino lo scorso anno in forza alla Bellinum, formazione militante in promozione.